Gospodin Rossi, tu vuoi un istituto così esperimentale in questa formazione? La possibilità di vedere, di dare minutaggio a qualche giocatore, di vedere a qualche ragazzo. Però il nostro obiettivo non è oggi. Trebiamo da sapere come voi capite per l'esperimentale. Azi dicono, che per noi sono state delle treningi, che mi hanno dato l'opportunità di vedere alcuni dei bambini, di provare alcuni altri futboliisti. Nella città non è stata oggi. Come la situazione con quelli che non hanno potuto giocare, che non hanno potuto giocare. Sono pronti ragazzi, con i giovani, la gente che non entra molto spesso in grado di giocare, non sono pronti, ma questo lo sapevo già. Non sono pronti, ma questo lo sapevo già. Come la situazione con quelli che non hanno potuto giocare? Oggi sono infortunati. che stanno recuperando, però dobbiamo ancora aspettare un po'. Ma questo però è una sconfitta. Non fa piacere ai tifosi di l'eschi. Come va ad influire questa sconfitta mentalmente ai giocatori? Lo ripeto un'altra volta. Questa storia è anche l'anno scorso a Malta. Voi valutate la partita nell'ambito della vittoria. Potevi vincere anche 2 a 0, 2 a 1, ma non cambiava la sostanza. Non è quello che mi interessa in questo momento. Non mi interessa vincere in questo momento. Il nostro obiettivo è fra 15 giorni. Il nostro obiettivo è mettere in lottaggio qualche giocatore, vedere qualche ragazzo giovane. In questo momento il risultato è l'unica cosa che non mi interessa. Poi se non fa piacere mi dispiace. Voi sempre guardate, e provatam, oltre vedno, guardate tessi matchov, guardate la puntata di risultato. A me sta solo da darem l'economi fuboliisti da giocano, da vediare un'anima minuto, da vedem laite, l'amcheta. For nas è una tranizione. A noi non mi possiamo i da vedi 2 a 0, 2 a 1, non mi interessa, ma non mi interessa. A me interessa di risultato. Se non mi interessa, se non mi interessa. Dora e selezionate da Leschi, dobbiamo aspettare ancora i nuovi popolini? Il primo punto è arrivato alla selezione di Leschi. E poi abbiamo aspettato qualche nuovo giocatore in breve tempo. Quali sono le due tiche? Il problema è che dovete farvi al club. In Praga stai nel settore della seconda stagione come allenatore di Leschi, quanto più forte è Leschi adesso nei confronti dell'anno scorso e cosa si aspetta dalla stagione? Quanto più forte lo dirà il campo? Il nostro obiettivo è recuperare tutti i giocatori e soprattutto il nostro obiettivo è farci trovare pronti per lundici luglio. Il nostro obiettivo è di riuscire tutti i futbolisti e di essere preparati per 11 iuli. C'è come? Ma lei va a scommettere che Leschi diventerà campione in un nuovo campionato? Io non gioco neanche gratta e vinci quindi non posso scommettere. Io non gioco, non gioco neanche gratta e vinci, quindi non posso scommettere. Io non gioco, non gioco, non gioco, non gioco. Anche per gli allenatori è proibito scommettere. Anche per gli allenatori è per gli allenatori. Ciao!